Buongiorno, è venerdì 15 dicembre 2017, mattino 6, vi tiene compagnia come sempre per sfogliare i quotidiani locali, le prime pagine nazionali per rivedere alcuni dei servizi confezionati ieri dal TG6, tra questi chiaramente l'inchiesta Rigopiano con gli interrogatori che proseguono, ieri è stata la volta dell'ex sindaco Gian Caterino, ma poi anche grande spazio agli eventi di Chieti di ieri con l'inaugurazione dell'anno accademico ma anche il ripristino, l'inaugurazione del Tribunale di Chieti per l'appunto. Iniziamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani locali, ecco l'edizione del centro, l'edizione di Pescara, con la seguente apertura, via i poveri che dormono in strada. Stop ai bivacchi notturni, 150 senza tetto, trasferiti in due strutture. E poi scendendo leggiamo Abruzzo, grandi imprese e PMI, patto per lo sviluppo, assistenza, autismo, le associazioni si uniscono. In basso Sisma 2009, beni artistici e scuole, 180 milioni per l'Aquila. Centro pagina la fotonotizia con i funerali che si sono tenuti ieri a San Cetteo, a Pescara, di Edoardo Tiboni. Addio Tiboni, l'Abruzzo non ti scorderà. E poi, come detto gli interrogatori, Rigopiano, l'ex sindaco si difende per due ore. L'ex sindaco è Massimiliano Giancaterino, peraltro fratello di una delle 29 vittime della valanga killer che travolse l'hotel Rigopiano lo scorso 18 gennaio. A Pescara, infermieri e cittadini faccia a faccia in piazza. Poi scendendo ancora per lo sport pallannuoto, la presidente del club, Cristiana Marinelli, voglio riportare la grande pallannuoto a Pescara. Grandi alberghi in rete, capodanno amicizie attese, 5 mila presenze. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, l'influenza, i maschi non sono piagnoni. Avanti ora con l'edizione di Chieti. Ecco qui l'apertura. Chieti, un presidio di legalità. Il ministro Orlando inaugura il Tribunale Aule intitolate agli antifascisti. E poi la fotonotizia. Caputi, il rettore dell'Università d'Annunzio, premia forte. E la di Pietrantonio, aperto l'anno accademico dell'Università d'Annunzio. E poi di spalla, traffico di rifiuti, i tir partiti dallo scalo a Chieti. E poi a Lanciano mancano i medici, niente tac in ospedale. A vasto estorsioni e spaccio, chieste, 16 condanne. Per lo sport, Chieti accaccia ancora dell'allenatore a sorpresa. Spunta Marino. Sarebbe per lui un ritorno, dopo essere stato allenatore del Chieti nel 2016. Avanti ancora con l'edizione terramana del centro. Violentata e perseguita dal capo. Se non ci stai ti faccio licenziare, dirigente d'azienda a processo. E poi la fotonotizia, la torre del Duomo dovrà essere ingabbiata per le lesioni del terremoto. Il Duomo di Teramo. E poi di spalla, sempre a Teramo, il nuovo vescovo Leuzzi, il 20 gennaio, prima messa in città. E poi in basso ancora, oggi il via al processo. L'inchiesta è Castrum presso il comune di Giulianova, che ha interessato alcuni dirigenti del comune di Giulianova. Anche l'ASL sarà parte civile. Poi ex titolare del pastificio, addio a Gino Verrigni, storico imprenditore. Per lo sport, le parole del patrone del Teramo Campitelli, che fa la corte a Brucchi, sarebbe un grande dirigente. E poi ancora, l'edizione aquilana del centro, il titolo d'apertura, perde il lavoro e si uccide a 19 anni. Tragedia Balsorano, il corpo della ragazza trovato in bagno dal padre. La fotonotizia, Roma revoca l'esilio di Ovidio, 2000 anni dopo, delegazione di Sulmona alla manifestazione in Campidoglio. Di Spalla, Ricci, nuovo primario di neurochirurgia presso l'ospedale dell'Aquila. Poi ancora, ad Avezzano, scoperti mentre sparano cinque colpi di pistola. E all'Aquila, impianti sportivi, novità sulla gestione. Ad Avezzano, doppio concerto in cattedrale, canta Massimo Ragneri. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo, che dedica l'apertura all'interrogatorio di ieri dell'ex sindaco di Farindola Giancaterino. Rischio valanghe, non risultava. L'ex sindaco Giancaterino al procuratore, per me una doppia tragedia. Morto anche mio fratello, non l'avrei mai messo in una situazione di pericolo. Poi tre richiami sotto la testata. Teramo, lei lo lascia, lui minaccia di diffondere le foto hard ambiente. L'Aquila, progetto Smart Clean, ripulirà l'aria da polveri e smog. Calcio, Pescara, Benelì manda messaggi. Se gioco, faccio la differenza. Il libico, abituato ad essere grande protagonista, oggi vive male la realtà di Gregario. A Teramo, invece, l'allenatore dovrebbe proporre a Reggio Emilia il duo Mignon. E poi, di spalla, leggiamo una tantum alle imprese danneggiate dal terremoto. 5 mila euro erogati in attesa dei rimborsi promessi dal governo. E poi, vediamo a centropagina la fotonotizia. Anno accademico con il ministro Orlando. Il rettore Caputi illustra la crescita dell'Ateneo. Sempre in taglio medio, biotestamento sì alla legge nata in Abruzzo. Prima firmataria la deputata Maria Amato. Dignità nel morire, non c'entra l'eutanasia. Il biotestamento sarà una delle notizie che troverà maggior spazio nella rassegna nazionale. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura è trimetilbenzene dalla fontana pubblica. La ASL trova tracce dell'idrocarburo durante un controllo in centro a Teramo e chiede spiegazioni al Ruzzo. E poi, sotto la testata, Roseto passa il piano sociale e quello delle assunzioni. A Silvi è arrestata la banda delle truffe agli anziani. E poi la fotonotizia, eccola qui, Gamberetti della Salute, Istituto Zoprofilettico e Ruzzo li useranno per monitorare l'acqua. E poi di spalla la morte del piccolo Marco Calabretta, altri quattro soccorritori indagati per la morte del baby calciatore Pineto. Montorio di notte, il comune si affida alle guardie giurate. Poi Castrum oggi inizia il processo, l'inchiesta sulle mazzette per gli appalti a Giulianova. E poi in basso leggiamo della morte di Roberto il professore, che è morto sotto i portici al processo, fu il teste chiave. Il processo è quello relativo al delitto di Adele Mazza. E ora andiamo a vedere le prime pagine nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Come detto, biotestamento tra le notizie principali, ma anche il caso Etruria, che è riesploso. Ecco qui, infatti, l'apertura del Corriere della Sera. Banche riesplode il caso Boschi. Con le parole del presidente Vegas, mi parlò di Etruria. Lei mi invitò a casa sua alle 8 del mattino da sola. Ho gli sms. Il presidente della Consob, sentito in Parlamento, le opposizioni chiedono le dimissioni della sottosegretaria. Poi ancora, in basso, ecco qui la fotonotizia. Sì, al biotestamento, quelle lacrime in aula. Approvata la legge, i cattolici divisi, c'è chi sostiene. Non la applichiamo. Poi, questa intercettazione che fa davvero scalpore il ribrezzo, se vogliamo. L'uomo dei rifiuti, bimbi a rischio, muoiano pure. Sei arresti in Toscana. Poi ancora, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Banche e scontro su Boschi. di Vegas, presidente di Consob in uscita. Lei mi parlò di Etruria. Temeva l'accordo con Vicenza. Intervista alla sottosegretaria. Inusuale un invito a casa sua via sms. Mai fatte pressioni. E poi, l'Italia del biotestamento storico. Sì, con le lacrime in aula. E poi ancora, in basso, leggiamo altri richiami. Ecco qui, la lunga strada di Anisamri, come nasce un terrorista. E poi ancora, il reportage. C'era una volta Camerino, dimenticata dopo il terremoto. La storia. L'Austria va controcorrente. Il fumo torna nei ristoranti. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco qui, l'apertura. Il caso Boschi è chiuso. Ha confessato. Vegas, presidente della Consob, come detto, svela incontri con la Boschi, che gli chiese dietro Uria. Lei ammette e ricorda pure di aver discusso della banca amministrata dal padre con Ghizzoni. Ma alla Camera negò conflitti di interessi e corsie preferenziali. E poi, sotto la testata, questa esclusiva del Fatto Quotidiano, così il grande capo della FIFA ha insabbiato la calciopoli turca. Ecco le lettere segrete tra Gianni Infantino e la Federazione di Istanbul. I documenti scambiati nel 2012 dopo le retate che avevano svelato la Combin, o meglio, le Combin, per far vincere il campionato al Fenerbahce. Avanti ancora. Siamo al messaggero Etruria. Scontro Vegas-Boschi. Il presidente di Consob mi chiese dell'istituto. Era preoccupata per la fusione con Venezia. Il sottosegretario, mai fatte pressioni. Mi invitò a casa a parlarne. Mi invitò a parlarne a casa sua. Non mi dimetterò. E poi, sotto la testata, Biotestamento, c'è la legge. Il Senato approva il testo con 180 sì, cattolici divisi, regge l'ASPD, Movimento 5 Stelle, Gentiloni, scelta di civiltà. E poi, questa particolare fotonotizia. Lezioni romane. L'albero scelto dal Campidoglio, battuto da quello in Vaticano. Il derby degli abeti, Spelacchio, travolto da Rigoglio. Ma la colpa non è sua. Ecco qui, questo albero decisamente più rigoglioso rispetto a questo collocato in Piazza Venezia. E poi ancora, andiamo sulla testata libero. Come fare il Biotestamento? Passata la legge, infuriano le polemiche. Ecco il manuale per ottenere la certezza che venga rispettata la nostra volontà in caso di incapacità a decidere. In Senato, Carroccio e mezzo centro-destra votano contro. Medici cattolici già pronti all'obiezione di coscienza. E poi, il vecchio che avanza, 80 anni. Arbore batte tutti, ritorna con indietro tutte e fa il 20%. Ma come ha fatto la RAIA a scordarlo per 30 anni? Poi ancora, siamo al mattino. Banche, scontro Consob Boschi. Vegas, mi parlo di Etruria, era preoccupata per la fusione. Lei, nessuna pressione. Fu lui a invitarmi a casa di mattina un sms. Gentiloni ha chiarito tutto. E poi ancora, siamo sulla stampa. Banche, processo a Boschi. Vegas, mi parlo di Etruria. Di Maio è il Mario Chiesa della Seconda Repubblica. La replica del sottosegretario. Niente pressioni. Mai chiesto favori. Non mi dimetto. Renzi la difende. Nesce a testa alta. E poi, la fotonotizia al centro. Disney compra Fox. La soffida della TV del futuro. Nasce il colosso dell'intrattenimento. I concorrenti europei studiano la controffensiva. Il tempo. Il titolo d'apertura. Bindi, ultra a caccia di fascisti. Ma le curve rosse sono belle. Antimafia nel pallone. Rosi dichiara guerra ai tifosi di destra. Silenzio su chi plaude alle BR. E porta allo stadio i centri sociali. Poi, approvato il biotestamento. Passa la legge sul fine vita. Chiesa furiosa. E poi, ecco, la spiaggia della Raggi. Siamo chiaramente alla fotonotizia. Virginia annuncia il lido a Ponte Marconi. La zona prescelta oggi si presenta così. E poi ancora, andiamo avanti per il titolo d'apertura del sole. 24 ore. Draghi, più fiducia sulla crescita. Ma rimane la necessità del quale. Il rialzo dei tassi, impossibile dirlo ora. Ma sarebbe una buona notizia. Il presidente della BCE, l'Eurozona, migliora più delle attese e più degli Stati Uniti. Anche se è lenta la risposta dei salari. Siamo ora all'apertura del giornale Boschi di bugie, bomba anche. Vegas, tre incontri con l'ex ministro, era preoccupata per Etruria. E spunta anche il nome di De Benedetti. Berlusconi è l'Unione Europea. Con me, Italia stabile. E poi, etica e politica. Il biotestamento è legge. Dalle terapie ai tutori. Ecco le novità e i dubbi. Il manifesto letrusco colpisce ancora. Il titolo d'apertura, chiaramente, Boschi venne da me a Milano perché era preoccupata per Etruria. Il capo della Consob, Vegas, lancia la bomba in commissione banche. La sottosegretaria ha mentito. Si dimetta. Lei si difende in tv. Mai fatto pressioni. Lui chiese di vedermi a casa sua. Ecco, poi, sotto la testata, il biotestamento è legge. Ed emoziona. E siamo alla verità. L'eutanasia è legge dello Stato. Andate a morire ammazzati in pace. Una questione fondamentale per l'uomo ridotta a strumentalizzazione politica di fine legislatura. Senza neppure il coraggio di dire apertamente che il vero nodo è economico. Accudire gli ammalati costa carro, sopprimerli invece no. E poi la fotonotizia è sempre sul caso Etruria. Ufficiale la Boschi è una bugiarda. E poi, in taglio medio, l'Unione Europea ci raziona anche il pesce in tavola. Sente il ministro Martino. Il Consiglio taglia la quota riservata all'Italia a favore di Spagna e Turchia. E andiamo a chiudere con l'avvenire. Ecco qui l'apertura. Il confine della vita. Biotestamento. Legge sconfitta. In Niger. Militari blocca migranti. Approvato il testo sulle disposizioni anticipate di trattamento. Il governo si appresta a inviare fino a 500 soldati nel deserto rosso. Lasciamo le testate nazionali. Torniamo a quelle locali. Ripartiamo da pagina 2 del centro. Ecco qui. Autismo. Le associazioni si uniscono. Vogliamo diritti e risposte uguali in tutta la regione. In Abruzzo circa 700 persone sono affette dal disturbo. Soddisfatta la deputata Maria Amato, promotrice dell'emendamento che ha inserito la malattia Nelea, ha dato un senso alla mia presenza in Parlamento. E poi in basso, terremoto 2009, beni artistici e scuole. In arrivo altri 180 milioni. Andiamo a pagina 3. Competitività e sviluppo. Incontro a Pescara. Grandi aziende e PMI unite per il lavoro. Lolli presto alla bozza di programma per trasferire tecnologie e ricerca. Aiutare le piccole imprese a emergere. Avanti ancora. Andiamo sulle pagine di Pescara. Anzi, prima c'è la pagina 11, pagina dell'Abruzzo. Ecco qui, nuovo piano rifiuti. Obiettivo zero scarti. Le parole del sottosegretario Mazzocca. Entro il 2022 differenziata al 70%. Critico il centro-destra. Disponibilità triplicata nelle discariche. Poi ancora, tra gli obiettivi, lo sviluppo della raccolta porta a porta e il rafforzamento della rete regionale del riciclo. Pagina di Pescara con il piano antidegrado. Via dalle strade 150 poveri stop ai bivacchi notturni. Dal 20 dicembre due strutture accoglieranno i disperati che dormono alla stazione. Da gennaio sarà rafforzata la task force anti-accampamenti con 12 vigili urbani. Poi ancora, con i funerali che si sono svolti ieri di Edoardo Tiboni, l'addio a Tiboni, una vita intensa spesa per la cultura. Istituzioni e tanti amici per l'ultimo saluto in cattedrale dalla RAI ai premi Flaiano fu una personalità unica. E allora, vediamo il servizio della nostra redazione, proprio il servizio relativo ai funerali di Edoardo Tiboni. Pescara ha salutato questo pomeriggio per l'ultima volta uno dei suoi concittadini più illustri. Nella cattedrale di San Cetteo sono stati celebrati i funerali di Edoardo Tiboni, creatore del premio Flaiano e artefice di una grande crescita culturale della città, anche attraverso la manifestazione nata per celebrare il grande sceneggiatore, scrittore pescarese, l'abate della cattedrale di San Cetteo, Don Francesco Santuccione, ha parlato di Tiboni come di un dono di Dio. Questo invece è il ricordo del presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Lui è stato un gigante, una vera e propria istituzione che passa all'immortalità per la qualità e la quantità delle iniziative assunte. Adesso dobbiamo raccogliere questa potente eredità che ha permesso che tutto quello che c'è di valore in Abruzzo e nella città di Pescara non assomigliasse a niente, perché sono veri e propri lingotti d'oro dal punto di vista dell'identità e del pensiero al futuro. Noi dobbiamo continuare la sua azione sapendo quanta dedizione lui ha assicurato, quanta radicalità di impegno e di applicazione. I tre giganti dell'Abruzzo che fanno la nostra storia grazie a lui sono stati tesaurizzati a favore anche delle giovani generazioni. Dobbiamo continuare pensando a Croce, a Flaiano, pensando a D'Annunzio, ma pensando anche a democratizzare questo patrimonio conoscitivo. Io penso che si possa dire che lui ha saputo essere Edoardo Tiboni. Molti sono quelli che rinunciano ad essere ciò che sono. Lui è riuscito per l'appartenenza alle questioni che rendeva destinatarie del suo impegno. Ha avuto anche una famiglia che lo ha aiutato, dei collaboratori. Lui è stato radicale perché radicalità era richiesta dalla quantità delle battaglie che servivano in quei momenti. A favore dei premi, delle fondazioni, della riscoperta di questi grandi padri della nostra comunità regionale. Penso che lui abbia assunto anche altezze di significato, di rilievo nazionale. Anche a Roma lui è stato il Tiboni percepito in Abruzzo. Forse chiamo sul centro corruzione, politici e magistrati a confronto. Oggi convegno in comune con Legnini, Aceto, Chiavaroli e l'intervento in video di Rita Borsellino. Un evento appunto a Palazzo di Città a partire dalle ore 15 a Pescara. E poi ancora, sempre a Pescara, via del circuito raddoppia, così traffico più scorrevole. Blasioli annuncia l'opera nel piano triennale, prevista anche una rotatoria. Nel 2018 interventi sul Lungomare Sud e strada Pendolo fino a San Donato. Poi ancora la sanità tra la gente. Gli infermieri incontrano i cittadini in Piazza Salotto. Domenica è l'iniziativa organizzata dalle caposala di oncologia ed ematologia. Basta con le polemiche ai pazienti e sicuriamo competenza e professionalità. Pagina 19. La cronaca investì e uccise un pensionato in bici il Gup via la patente. La donna di 67 anni ha pateggiato 16 mesi appena sospesa. L'incidente un anno fa in via Tirino costò la vita a Paolo Mucci. Avanti ancora con questo parti natalizio l'attrice Antonella Ferrari, D'Alea Eflo per l'Aism, l'associazione che combatte la sclerosi multipla. Avanti ancora siamo alle pagine di Montesilvano, attesa per la grande festa di Capodanno Amicizia. Torna la saga di San Silvestro ispirata da DJ Anconitano, Caus e Dimeo. In rete 10 grandi alberghi della Riviera, obiettivo unire mondi diversi. E poi ancora in basso una partita di calcio per Antonio e Manuel a Montesilvano. Martedì l'appuntamento in memoria dei giovani rom uccisi. Interverranno gli avvocati. Siamo a Spoltori, in questo caso Festa dell'Albero in Piazza di Marzio Resital con Pagliai al via. Questa sera con un concerto a Villa Raspa del coro degli alunni Tincoir, il cartellone delle feste. Proseguiamo, siamo a Francavilla, Cimitero, il comune da Via Libera all'ampliamento. Lavori autorizzati ben oltre un anno dopo il passaggio di gestione alla De Francesco Costruzioni. In ritardo anche le paghe di quattro lavoratori. E poi di spalle leggiamo ex Fonderia, il giudice assolve Colasante. Siamo alla Val Pescara, ma in realtà siamo più precisamente all'inchiesta a Rigopiano con gli interrogatori. La prefettura non segnalò più i rischi. L'ex sindaco Giancaterino spiega perché con lui dopo il 2005 non si riunì più la commissione valanghe a Farindola. In basso a Penne la Casa della Salute festeggia 10 anni. Domani e domenica incontro promosso da altre regioni sull'unità complessa di cure primarie. E poi ancora a Chieti, ecco qui, la Minerva a Forte e di Pietrantonio. Inaugurazione dell'anno accademico e il rettore dell'adannunzio premia l'arcivescovo e la scrittrice. Nella solenne manifestazione all'Ateneo più spazio agli studenti e ai neolaureati dell'adannunzio. Applausi per gli interventi di Lorè e Nigro. Allora vediamo proprio il servizio sulla inaugurazione dell'anno accademico all'adannunzio. Un'università sempre più al centro dell'area metropolitana Chieti-Pescara e con maggiori servizi per gli studenti, patrimonio culturale, sociale ed economico. Questa è l'università d'annunzio che il rettore Sergio Caputi, alla prima inaugurazione da Magnifico, ha tratteggiato durante la cerimonia per l'apertura del nuovo anno accademico. Che 2018 sarà per l'adannunzio? Ma sarà un 2018 intanto teso a risolvere alcuni problemi che ci siamo ritrovati e li stiamo affrontando in maniera determinata e li stiamo già in gran parte risolvendo. Poi per il resto la nostra progettualità andrà sicuramente a favore dei servizi per gli studenti che sono il bene più prezioso dell'università, senza dimenticare l'ampiamento delle piante organiche sia per i docenti che per i non docenti. L'ordine della Minerva è stato istituito nel 1986 ed ogni anno viene conferito su proposta del Senato accademico dell'adannunzio a personalità nazionali ed internazionali che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza, della cultura e dell'economia. Quest'anno la scelta è caduta sulla vincitrice del premio Campiello, Donatella di Pietrantonio, e sull'arcivescovo della diocesi di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. L'università non può essere considerata un corpo estraneo, essa è al servizio del nostro territorio, della nostra gente, dei nostri giovani. I giovani devono sentirsi accolti e accompagnati in un cammino formativo che è sempre finalizzato ad una scelta di disponibilità e di servizio agli altri. Credo che questo messaggio, da una parte ai giovani, dall'altro all'intero territorio, sia quello che vada continuamente rilanciato perché allora l'università realizza la sua finalità più profonda che è quella di far crescere la qualità della vita per tutti. I riconoscimenti che si ottengono nella propria terra hanno sempre un valore aggiunto particolare perché è una radice comune, una radice forte, quindi sono particolarmente significativi, hanno un alto valore emotivo e affettivo. Ancora sul centro, la pagina aquilana con l'apertura di una tragedia in Valle Roveto, resta senza lavoro e si uccide a 19 anni. Il centro commerciale non le rinnova l'ultimo contratto, il corpo scoperto dal padre nel bagno dell'abitazione. E poi ancora, sempre per la cronaca, studenti palpeggiati, finti carabinieri sotto processo, accusati di violenza sessuale. Poi ad Avezzano, ladri sparano contro il vicino che li scopre, cinque colpi di pistola per coprirsi la fuga, ricercati due banditi a bordo di un SUV. E poi il Campidoglio rende giustizia a Ovidio, votata all'unanimità la simbolica riabilitazione del poeta latino, costretto all'esilio, lacrime in aula. Infine la pagina teramana, stalking e ricatti, violentata e perseguitata dal capo, se non ci stai ti faccio licenziare. Al via il processo un cinquantenne dirigente d'azienda rosetano in carcere dopo la denuncia della ex. L'accusa ha minacciato anche di diffondere le nostre foto in intimità e ha seguito i miei figli. E poi in basso altre due notizie. Ecco qui è morto lo storico imprenditore Verrigna, guidato fino al 2007 il pastificio di Roseto, fondato alla fine dell'Ottocento dal nonno. aveva 85 anni e lascia due figli, uno dei quali continua la gestione dell'azienda. Stamattina i funerali. Poi il nuovo vescovo di Teramo, chiaramente la diocesi di Teramo Atri, si insedia il 20 gennaio per la prima messa di Leuzzi in cattedrale, è previsto l'arrivo di migliaia di fedeli anche da Roma. Ci fermiamo per le previsioni del tempo, un po' di pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte. Eccoci rientrati con la seconda parte di Mattino 6, riprendiamo con il messaggero e vedremo subito anche un servizio, perché ripartiamo dagli interrogatori su Rigopiano. Ecco qui, ieri è stata la volta, come detto, dell'ex sindaco Massimiliano Giancaterino, rischio valanghe, nessuno aveva lanciato l'allarme. L'ex sindaco Giancaterino dice che è morto anche mio fratello, non l'avrei mai mandato in un luogo pericoloso. La mancanza del PRG sarebbe dovuta a una battaglia politica che avrebbe impedito l'approvazione. E allora, ieri eravamo presenti proprio in procura per l'interrogatorio dell'ex sindaco di Farindola. Vediamo il servizio. Terza giornata di interrogatori in procura Pescara per l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola che il 18 gennaio scorso causò la morte di 29 persone. Quella di oggi è stata la giornata dedicata agli interrogatori dei dipendenti, dei funzionari, degli amministratori ed ex amministratori del comune di Farindola. In verità non tutti si sono presentati perché il sindaco Ilario Lacchetta ed Enrico Colangeli, responsabile tecnico del comune di Farindola, attraverso i loro legali hanno chiesto il differimento dell'interrogatorio. Si è invece presentato in procura e ha risposto alle domande del procuratore Massimiliano Serpi e del PM Andrea Papalia. L'ex sindaco Massimiliano Giancaterino, che si è detto sereno dopo l'interrogatorio, è tranquillo per aver fatto tutto il possibile. Noi proprio andiamo ad ascoltare le parole di Massimiliano Giancaterino dopo l'interrogatorio in procura Pescara. Io con la mia coscienza sarei a posto, altrimenti non me lo perdonerei mai, insomma. Lì ho perso mio fratello oltre a un sacco di amici, quindi oltre ad altre persone che conoscevo comunque o altre che non conoscevo. Ma il rispetto della vita umana imporrebbe, nel caso in cui mi ritenessi responsabile, che imporrebbe comunque un grossissimo peso sulla coscienza che in tutta sincerità non mi sento di avere. Ma poi c'è la magistratura che svolgerà il proprio compito e che arriverà a definire, spero, in tempi non biblici, le responsabilità penali, personali. Per lei quella adesso è una montagna maledetta o resta comunque il luogo del cuore di tutti i farindolesi? Beh, io avevo detto che non ci sarei più salito da appassionato della montagna, non è così. Ci vado, vado ad onorare la memoria di miei fratelli e degli altri che hanno perso la vita lì e vado così perché comunque sono legato al mio territorio e lo rimarrò. Nonostante questa tragedia, che è inutile negarlo, ha segnato la vita non solo mia, ma di tutti i farindolesi, ma credo anche di tante altre persone che ci hanno espresso così la loro solidarietà nei momenti più bui che la mia comunità ha dovuto sopportare, ha dovuto superare. Sempre sul messaggero, i big adottano le piccole imprese, aiuto progettuale per i bandi. Il patto tra grandi aziende PMI, già sperimentato con successo, in altre realtà europee, con l'assistenza di manager di grande esperienza, i colleghi potranno intercettare finanziamenti dell'Unione Europea. Poi la pagina di Pescara, anche in questo caso chiaramente grande attenzione ai funerali di Edoardo Tiboni, addio a Tiboni, gigante d'Abruzzo, anche è stata questa l'espressione utilizzata dal presidente della regione D'Alfonso nell'intervista che vi abbiamo proposto, cattedrale di San Cetteo affollata per i funerali del patron dei premi Flaiano, la gratitudine della politica e della cultura, un immortale che dobbiamo far conoscere alle giovani generazioni, ha detto il presidente Luciano D'Alfonso. Poi, in taglio meglio, leggiamo la rotonda dell'aurum intitolata Totò, attesa domani la nipote Elena De Curtis, sabato alle 11.30, l'iniziativa promossa da Silvano Console, già approvata in commissione. In basso, no al caro rifiuti, a rischio l'intesa sul bilancio, l'aumento della tale rimette in discussione in comune l'accordo sulla manovra. Proseguiamo sempre sulle pagine della provincia di Pescara, in questo caso, siamo a Montesivano, più telecamere per una città sicura. Il consigliere Agliano chiede l'installazione di occhi tecnologici su Montesivano per controllare le strade e scoraggiare i banditi. La protezione andrebbe stesa agli istituti scolastici con sgravi fiscali per chi si doterà di sistemi elettronici. E poi per la politica aziona l'Abruzzo. Il progetto di Zelli aggrega non solo nel centro-destra, nella sala Petruzzi, tanti simpatizzanti e curiosi, tra cui sospiri e diodati. Tra le prime adesioni, quella di Fiorilli, l'ex vice sindaco di Pescara. Restiamo sempre a Pescara. Federautismo, la grande alleanza, costituito l'organismo che racchiude cinque associazioni da sempre impegnate per l'assistenza. Vittoria di civiltà. Sorge Verì e Don Pagnello nel direttivo della struttura con Lemme Portinari. La spinta dell'onorevole Amato. Possiamo andare avanti. Approdiamo alle pagine dell'Aquila. L'argomento è quello della perdonanza. La lettera è un giallo in comune. Non c'è alcuna traccia. La missiva del Ministero, inviata a giugno, evidenziava il silenzio sul dossier UNESCO. Biondi e Di Cosimo non l'abbiamo trovata, ma è arrivata prima del nostro insediamento. L'attuale giunta polemizza e respinge critiche. Rimedieremo all'ennesimo pasticcio. In basso, tentata estorsione dopo l'asta per la casa. avrebbe ricattato un padre di famiglia preoccupato di dare degna sistemazione a due figli minori. In Marsica, ad Avezzano, a processo per violenza sessuale di gruppo, due magrebini sono finiti alla sbarra con la pesante accusa di aver abusato cinque ragazzi, tra cui due donne ricostruite in aula nei minimi particolari. la triste vicenda avvenuta il 7 maggio scorso davanti a una discoteca di Scurcola Marsicana. I due, sostenendo che nel locale erano stati rubati i loro cellulari, hanno sottoposto le vittime a perquisizione. Avanti ancora, siamo alle pagine di Chieti. Caputi apre il nuovo anno in platea Orlando e Legnini. Nei piani dell'annunzio, altri corsi di laurea, una pianta organica più ampia e progressioni di primio critica. Il video su città e campus presenti anche Cucurullo e Trifuoggi. Per il Rettore, la cerimonia di inaugurazione è un lungo applauso al termine del discorso. Ieri anche grande festa per inaugurare il nuovo tribunale con il ministro Orlando, che ha preso parte alla inaugurazione del nuovo tribunale e poi a quella del nuovo anno accademico. Vediamo il servizio relativo all'inaugurazione del tribunale a Chieti. Il battesimo laico del restaurato Palazzo di Giustizia di Chieti è stato celebrato dal ministro guardasigilli Andrea Orlando. Il taglio del nastro del tribunale in piazza San Giustino è il primo tassello della cittadella giudiziaria del capoluogo teatino. Il tribunale di Chieti, sede anche di corte d'assise e tra i più importanti d'Abruzzo. Ma nella regione resta aperto il tema della chiusura dei piccoli tribunali, prorogata a causa del terremoto. Orlando spiega che una possibile soluzione alternativa potrebbe essere legata ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei tribunali abruzzesi superando eventuali campanilismi. Si lavori per una proposta che può essere alternativa di razionalizzazione. Se sarà razionale, secondo me avrà buone possibilità da qui al 2020 di essere accolta. Se ognuno difende il suo campanile rischia di passare invece l'idea originaria. Bisogna che ci sia un disegno di ripensamento complessivo, quindi è possibile che non sia questa la soluzione, quella ipotizzata a suo tempo definitiva, ma bisogna costruirne un'alternativa. Nel corso della cerimonia è stata intitolata l'aula penale all'avvocato Gagliano Magno, difensore della vedova dell'onorevole Matteotti, e alla compianta giudice Antonella Radaelli, scomparsa qualche mese fa. Il presidente del Tribunale di Chieti, Geremia Spineglio, ha accolto il ministro della Giustizia nell'aula di Corte d'Assise del Tribunale, la stessa che nel 1926 ospitò il processo agli assassini di Giacomo Matteotti. Il ministro si è soffermato sul valore di questa rievocazione e sulla intitolazione a Pasquale Gagliano Magno. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al figlio e alla nuora di Gagliano Magno un telegramma nel quale omaggia la figura dell'avvocato, affermando che giustizia, democrazia e libertà sono gli ideali che ne hanno guidato l'azione nelle aule giudiziarie, dove ha contribuito a garantire l'applicazione del diritto senza mai venir meno alla sua indipendenza e alla sua onestà intellettuale. Sempre a Chieti droga nelle scuole scattano i blitz di polizia e arma. E ora andiamo in provincia di Chieti, più precisamente a Lanciano, rifiuti ospedalieri, Maio Group vende. Il gruppo Frentano cede per 70 milioni il prezioso ramo dell'azienda alla Ecoeridania di Genova, indiscusso colosso nazionale del settore. Con un fatturato di 200 milioni l'anno la storica azienda cambia strategie puntando sulla raccolta dei rifiuti industriali speciali. E poi sempre a Lanciano le parole di Lanci, di nuovo senso civico, fuorilegge i parcometri per la sosta a pagamento in centro. Le macchinette non accettano le carte elettroniche e non danno il resto. In basso a vasto piano sociale, accordo tra nuove comuni, l'approvazione del Consiglio Comunale. Il progetto vale poco più di 11 milioni. Le pagine terramane del messaggero. Nasce un progetto centrista per affrontare il post-Brucchi. Chiaramente si parla di politica. I movimenti civici scendono in campo. Mauro Di Dalmazzo, il possibile leader. Lo schema di riferimento nazionale è quello dell'ex sindaco di Verona. Prime manovre di riassetto politico dopo il tutti a casa che ha fatto cadere la giunta. Intanto l'ex assessore di Giovanni Giacomo, che avevamo visto nel tondo sopra il titolo, accusa che ci sono stati troppi interessi personali e in molti lavoravano soltanto per se stessi. E poi ancora in basso, lei lo lascia, lui minaccia di diffondere le loro foto osè. Avanti ancora, siamo a Giulianova con ancora una volta la vicenda della pittrice, la vicenda di Renata Rapposelli. Ma Simone è stato a Tolentino. Una donna ha dichiarato in tv a chi l'ha visto che il figlio di Renata Rapposelli conosce benissimo la Valle del Chienti. Santoleri ha dato una versione opposta, ma i carabinieri hanno avuto conferme in una chat specializzata in incontri uomo e donna. E poi, come detto, oggi inizia il processo relativo all'operazione Castrum. Otto sono gli imputati. Lasciamo, anzi, vediamo quest'altra notizia relativa alla morte del piccolo di Pineto Marco Calabretta. Interrogati tutti i soccorritori. Lasciamo il messaggero Abruzzo, ci torneremo per le pagine dello sport. Ora approdiamo alla città il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco qui siamo a pagina 3 con questa particolare storia da avvocato a designer di accessori femminili. La storia di Maria Luisa Spina che dopo 20 anni di studio legale a Teramo si è lanciata nella moda. Le creazioni raccontano nella forma e nei colori la nostra regione e la sua voglia di ripartire dopo i terremoti che l'hanno colpita. Pagina 4. Trimetil benzene dalla fontana di Sant'Antonio. L'Arta trova tracce dell'idrocarburo durante un controllo e chiede spiegazioni al Ruzzo sulla contaminazione. Nei campioni prelevati mercoledì trovati mesitilene e pseudocumene. In concentrazioni comunque inferiori ai limiti di legge. Avanti ancora pagina 5. Roberto il professore è morto sotto i portici stroncato da un infarto a 71 anni. Il testimone chiave del delitto Mazza è divenuto celebre a un giorno in pretura. Pagina 6. Appuntamento gattiano alla Pantera Rosa. Stasera la riunione di Futuroin verso e degli amministratori occhi puntati sulle new entry. Pagina 7. Piano parcheggi alla stazione Ennesimo Flop. Perché pagare la sosta a pagamento se si può sostare gratis sull'area di servizio smantellata. Sull'ex area di servizio smantellata. Poi ancora su Buglio al Pascal per la sicurezza dell'edificio. Gli studenti minacciano scioperi. La provincia spiega i lavori e si prepara a riconsegnare un'ala danneggiata. I fondi l'UTR ha messo a disposizione 5,4 milioni per riparare i danni causati dal terremoto alla struttura scolastica. Poi ancora il doppio step. A gennaio verranno riconsegnate 12 aule all'ingresso della zona bar. Poi si procederà alla gara d'appalto per il resto. Il presidente di Sabatino e il consigliere Rossi oggi incontreranno gli studenti per illustrare lavori e adeguamenti. Pagina 9. Il Braga strappa la promessa sulla sede storica. Prima del concerto alla Camera dei Deputati ha annunciato la ricostruzione del Chiostro di San Giovanni. Qui vediamo diversi scatti del concerto che si è tenuto alla Camera dei Deputati da parte degli allievi del Braga con la presenza anche del parlamentare terramano Paolo Tancredi tra gli altri. Poi ancora il vescovo, l'imminente vescovo prossimo all'insediamento Monsignor Leuzzi e poi l'onorevole Vincenzo Cerulli-Irelli appunto in questa giornata di concerti del Braga presso la Camera dei Deputati. Proseguiamo con le notizie dalla provincia della città. Ecco qui i gamberetti controlleranno l'acqua del Gran Sasso. Gli strumenti del ruzzo saranno affiancati dall'esperimento di biomonitoraggio dell'IZS Caporale. Il sistema di controllo di ultima generazione acquistato dalla Ruzzo Reti lo scorso settembre sarà installato appena dopo l'Epifania. Non solo acqua, grazie agli animaletti sarà possibile capire anche lo stato di salute dei fiumi in zona parco. Avanti ancora con Paride perdiamo 350 mila euro l'anno. Tortoreto e i Cinque Stelle fanno i conti sul progetto per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. L'alternativa con Paride il Comune dovrà pagare i prossimi 24 anni, mentre con il progetto Agena solo per 10. Poi ancora il caso Rapposelli. Simone è stato sul fiume Chienti, parla l'ex fidanzata del figlio della pittrice trovata morta a Tolentino. Io e Simone siamo stati sul Chienti quando facevamo le passeggiate a Belforte. Poi ancora altri indagati per la morte del baby calciatore. Si tratta dei quattro infermieri che sono intervenuti per primi sul campo per salvare Marco Calabretta. L'inchiesta a Bista aperta dal PM Giovagnoni dopo che l'avvocato della famiglia ha denunciato i quattro infermieri. Poi a Roseto passa il piano sociale da 8 milioni di euro via libera dai revisori dei conti anche alle assunzioni annunciate dall'assessore Tacchetti per il 2018. Un incremento è previsto alla spesa di oltre un milione per tutto l'ambito che coinvolge i sei comuni. Balziamo ora alla pagina dello sport. Ecco qui con l'articolo curato da Jacopo Forcella. Da Sant'Arcangelo non è stato più lo stesso Diavolo. Nella trasferta romagnola il primo segnale di flessione del gioco. Provata la coppia piccola per Reggio. Due sistemi in ballottaggio in vista della gara di domani pomeriggio. Il tecnico dovrà scegliere se rimanere con il 3-5-2 oppure fare qualche piccolo aggiustamento. In forte dubbio la presenza di Amadio. Dobbiamo ancora proporvi un servizio. Dobbiamo vedere le pagine dello sport di Centro e Messaggero. Prima però transitiamo per le prime pagine dei tre quotidiani nazionali. Vediamo insomma le aperture. Questa è l'apertura della gazzetta dello sport. La verità di Gigio. Donnarumma il contratto mai detto né scritto di aver subito violenza morale. Forza Milan. Lo ha scritto su Instagram. Quindi è una versione via social del portiere del Milan. Poi ancora altri richiami. Di Bala. Pablito prova a rinanciare il triste Paolo. Una doppietta e le nozze. Napoli sorride. Torna in signe. Antidoto contro il Malle di gol. Poi Balotelli. Mario Brinda. Dieci anni dal debutto. Ora con i gol. È tornato Re. Poi rabbia Lazio. Dopo immobile nei quarti. Trova la Fiorentina. Ieri il 4-1 al Cittadella. Il Corriere dello Sport. L'apertura dedicata a un'intervista esclusiva con l'attaccante del Napoli. Kayekon lo scudetto bacia i belli. Parla Kayekon che non ha dubbi su chi vincerà il campionato. Il Napoli il più spettacolare sogno a maggio il tricolore. I miei gol torneranno presto. Sotto la testata. Gigio frena. Raio l'attacca. La gente. Mirabelli. Il problema fallito. Il suo progetto tecnico. Poi ancora. Tutto sport. Ecco l'apertura. Piazza il ritorno. Il talento curato pronto al rientro. Forse contro il Genoa in Coppa Italia. La Juve lo inserirà nella lista Champions. E poi di spalla. Toro. Petracchi 2020. Missione Champions. Dietro il rinnovo del DS. C'è un progetto di ampio respiro. L'ascesa in Italia e in Europa. E ora veniamo appunto ai quotidiani locali con le pagine dello sport. Siamo sul centro. Ecco qui con le dichiarazioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani a due giorni da una gara cruciale come quella contro il Novara. Domenica ore 17.30. Sebastiani il gruppo crede in Zeman. Il presidente del Pescara contro il Novara lo dimostrerà. E poi ancora c'è fiducia per la gara di domenica. Cambiare il tecnico non sarebbe giusto. Remiamo verso la stessa direzione. Quattro gol nell'amichevole contro il Francavilla. Segno Benelì, Cocco e Mancuso. Ascoltiamo dunque alcuni passaggi delle dichiarazioni del presidente Sebastiani che in questo estratto smentisce le voci di presunte dimissioni di Zeman dopo Cesena. Replica anche alle parole pronunciate al microfono del TG6 da Ugo Campagnaro che si sente un po' l'ultima ruota del carro e parla anche della sua recente missione in Romania. A meno che non l'abbia detto a qualcun altro ma sicuramente il mister non ha detto che si dimetteva anche perché ve lo dico perché tanto non ho sicuramente pedi sulla lingua e lo sapete se si fosse dimesso non l'avrei sicuramente fatto restare perché per me ci vuole gente convinta non gente che devo convincere. Campagnaro se si mette a posto fisicamente sicuramente diventa la prima ruota del carro, non l'ultima. è evidente che se Campagnaro non sta bene non può diventare la prima ruota del carro perché purtroppo è vero che Campagnaro è un giocatore importante, è vero che Campagnaro può essere un leader però voi sapete tutti quanti che poi bisogna stare in campo. Sicuramente magari qualche partita avrebbe potuto farla nel periodo in cui stava benino però bene non c'è stato mai quindi purtroppo non è responsabilità di nessuno. Noi sapevamo che Campagnaro poteva darci quello che poteva darci Campagnaro e la conferma di Campagnaro è stata una conferma di consapevolezza da parte di tutti ma è per primo che è un giocatore importante che a noi ha dato tanto può diventare veramente qualcosa in più però deve stare bene. Io sono andato più che per Mitrizza, sono andato per chiudere degli accordi che avevamo già messo in piedi con alcune accademie che sono lì che sono molto attrezzate, che hanno tanti giovani bravi perché comunque oltre a guardare al quotidiano bisogna anche guardare al futuro e quindi a febbraio arriverà una delegazione di questi ragazzi che verranno qui a fare una settimana con noi e si lavora come al solito per guardare anche al futuro e c'erano già stati tecnici e io sono andato solo per chiudere gli accordi perché di questo poi mi occupo personalmente. Ed ora siamo a pagina 36 sul centro, campionato di eccellenza Sorpresa Chieti, Spunta Marino, Noa Montani e Meco Monaco Ennesimo colpo di scena in casa Nero Verde il patron Trevisan ancora a caccia dell'allenatore oggi il vertice col tecnico Campano ma occhio a Lucarelli e poi ancora la palla a nuoto, il Pescara dei Pescaresi così torneremo in Europa il presidente Cristiana Marinelli è arrivata in questo mondo per caso mio padre mi ha incoraggiata nel giro di cinque anni voglio riportare la squadra in A1 i consigli e il futuro mio cognato Estiarte mi ha dato delle dritte con me in società c'è Di Propercio e spero che altri imprenditori sposino la nostra causa e ora il messaggero Abruzzo ecco qui con le due pagine di sport bene lì il Pescara adesso è a un bivio la partita più importante della stagione certo è che con il Novara vogliamo vincere il libico manda un messaggio molto chiaro credo di poter fare la differenza se gioco e poi ancora le rimonte subite sono un problema mentale ci stiamo allenando per far sì che non accada più e poi ieri appunto l'amichevole al Poggio con il Francavilla vittoria 4 a 1 dopo il vantaggio giallorosso di Romeo Reti di Benali Cocco e doppietta di Mancuso sul fronte l'Aquila in Serie D l'Aquila ancora caos, pagamenti rinviati e qualche calciatore chiede la cessione e poi ancora vediamo l'ultima pagina ecco qui Serie C Teramo in Polli il duo Mignon Asta vuole trovare la chiave di volta per Reggio Emilia in Lizza Tulli, Bacio Terracino la coppia dai piedi buoni il mister intenzionato ad abbandonare l'esperimento di Larry Playmaker di affidare il centrocampo a Graziano e poi ancora di spalla gli Sharks in palestra concentrati sul Ferrara per la pallavolo si è cortona successo d'occhi in attesa di Bench poi ancora calcio mercato tra i direttanti Serie D Crass torna all'Avezzano eccellenza Marino verso Chieti per il calcio a 5 Acqua e Sapone si avvicina il big match con Napoli Pescara invece ha acquistato il laterale spagnolo Gutierrez che stasera debutta nell'anticipo di Cisternino ci fermiamo dunque con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con i nostri Tg alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 grazie in regia a Claudio Di Giacomo e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata Grazie a tutti